Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa, aspettate che qua abbasso il volume delle telefonate, benvenuti a questa rassegna stampa di questa mattina, 23 marzo. Devo dire che c'è una frase del Talmud fantastica che condivido al 100% e che vorrei condividere con voi, cioè che la migliore vendetta è vivere bene. E quello che dobbiamo cercare di fare in questo momento è cercare, nei limiti del possibile, di sconfiggere anche questa idea cupa mostruosa che stiamo creando intorno a noi. Perché, e questa è la piccola iniziale riflessione che voglio fare, William, Lavigna, vedo che siete molto in diretta già oggi, ma se tutti i giorni alle 18 avessimo un rappresentante della protezione civile che invece di leggere la conta dei morti facesse una cosa un po' più utile, e cioè ci dicesse quante mascherine hanno recuperato, quanti letti in più hanno fatto, quanti curati hanno trovato, quante medicine hanno portato. No, noi viviamo in questa specie di cupezza, d'altronde sui giornali oggi non possiamo che fare altrettanto. Stoppa agli spostamenti! Il titolo di Corriere della Sera, più giusto secondo me è quello della Repubblica, che da quando c'è Verdelli è più icastico. Il Corriere della Sera dice stoppa agli spostamenti e c'è il grande successo del nuovo decreto per il quale noi non ci si può spostare da un comune all'altro. Beh, io per la verità non posso spostarmi da casa, ma questo è poco importante perché io sono positivo. Ma stoppa ai nuovi spostamenti, i 120 persone che sono state beccate alla stazione di Milano perché volevano andare nel loro paesello, sono considerati dei delinquenti. Siamo nel mondo di Orwell, per cui 120 persone che vogliono esercitare il loro diritto, perché sono stati licenziati, non hanno lavoro, non sanno che cazzo fare a Milano, non vogliono vivere in 30 metri quadri mentre c'hanno la casa, noi tutti, ah, i delinquenti che si stanno spostando, sembra manzoni, gli untori. Voi sapete cosa fa un paese civile nei confronti di quei 120 persone che vogliono andare a Milano? Invece di avere questa indignazione che abbiamo nei loro confronti, li prende per l'orecchio e gli dice, vuoi tornare a casa tua? Fai un tampone, obbligatorio, e se sei positivo rimani qua perché non vai a contagiare una zona in cui non ci sono i contagi. Ma se il tampone, 120 persone, fanno vedere che il tampone è negativo, tu prendi e vai nella tua città. Non si può limitare la libertà delle persone così, ab libitum. Cioè si devono trovare finché si può, secondo me, delle alternative. Ma il punto non è questo, io voglio commentare i giornali. Il problema è che nessuno, nessuno, siamo in una fase in cui nessuno si pone questo problema. Vi rendete conto che hanno fatto un decreto, per la chiusura di tutte le attività non essenziali, fatti per codici a teco, che è una cosa che bisognerebbe prendere un gignere un po' cretino, e non ce ne sono, per studiare una cosa così stupida. Perché non è il codice a teco che qualifica quello che fai. Se io faccio, per esempio, dei vetri confessi, che ha un codice a teco, ma hanno scritto migliaia di lettere persone, ma come a me avrebbero potuto scriverlo allo Stato, e questi vetri servono per fare i contenitori per mangiare, ma quello, ovviamente, deve lavorare indipendentemente dal codice a teco. Ma comunque, lasciamo perdere i codici a teco. La cosa straordinaria è che c'è una grande idea del nostro sindacato. Sapete qual è? Sciopero! Allora, io ai nostri sindacati, che vogliono scioperare, gli chiedo, cari sindacati, toc toc! Dopodomani, voi chi pensate, come in una bellissima intervista oggi di Toti, fatto da Daniele Capezzone, voi come cazzo pensate di campare dopodomani? I vostri dipendenti come campano? E le imprese, quando muoiono, quando le imprese muoiono, cosa facciamo? Guardate che oggi Federico Rampini fa un pezzo bellissimo sulla Repubblica, in cui spiega che la recessione, che può andare dal 5 al 10% di PIL in meno, vuol dire altrettanti, se non superiori, morti rispetto a quelli drammatici che stiamo vivendo oggi. Non sottovalutiamo i voti di oggi, ma non facciamo anche quell'errore mostruoso che piace a tutti gli italiani. Chiudiamoci! Certo, chiudetevi se avete 150 metri quadri. Chiudiamoci se avete lo stipendio che vi arriva comunque in ogni caso. Chiudiamoci se avete i vostri risparmi. Ma siccome l'Italia non è fatta solo da loro, una volta che noi ci siamo chiusi, chi campa? Come campiamo? Come paghiamo la sanità a cui tanto teniamo? Beh, insomma, studi professionali non sanno se possono essere aperti o chiusi. L'intervista a Boccia ve la segnalo il presidente della Confindustria che dice che ci sarà fatturato zero quando le imprese avranno fatturato zero. Amici miei, mi dovete spiegare quando ci sarà fatturato zero delle industrie che cosa se ne fanno le imprese delle direzioni di pagamenti, delle direzioni quando il fatturato è zero. Vuol dire che è morta l'azienda e per ricostruire un'azienda ce ne vuole molto. Patuanelli fa un'intervista, il ministro sviluppo economico alla Repubblica che viene titolata male perché Repubblica titola non abbiamo ceduto agli industriali come se gli industriali fossero cattivi ma siccome io conosco Patuanelli e non mi sembra un sindacalista della sinistra estrema poi ho letto e ho capito che cosa ha detto Patuanelli non dice che non ha ceduto agli industriali dice che è molto difficile trovare la via di mezzo tra la salute e l'impresa e che comunque grande senso di responsabilità delle imprese anche perché le imprese in realtà poi alla fine non è che gli imprenditori vogliono il male dei loro dipendenti settimana decisiva anche questa settimana ho trovato il titolo settimana decisiva prima che io fossi in quarantena c'era scritto settimana decisiva morti diminuiti e contagi diminuiti anche questa settimana è decisiva questo dimostra una serie di cose cioè che i numeri come dice l'amico Luccherini i dati le previsioni le curve i fenomeni quelli che ci hanno chiesto di chiudere l'Italia non sanno non hanno la più pallida idea di dove siamo non vi diranno mai per quanto tempo dovremo chiudere le nostre aziende non vi diranno mai per quanto tempo siamo a casa non vi diranno mai financo quanto verranno chiuse le scuole allora ci possiamo affidare a questi qui io direi che forse dovremmo stare un po' più attenti nel frattempo il aspetta il miracolo dei farmaci mi fa impazzire perché in queste settimane oggi mi sembra che il Corriere della Sera lo fa capire abbiamo trovato almeno 50 farmaci miracolosi e la clorochina che secondo il Journal of England non serve a nulla ma i francesi l'adottano e poi la cura dei giapponesi secondo il farmacista italiano che è andato in Giappone allora ragazzi ma voi veramente pensate che negli ospedali italiani ci sono un gruppo di cerebrolesi cioè i nostri i nostri i nostri come si chiama medici che tanto pensiamo eroi eccetera che sono totalmente allo sbando se ci fosse una medicina miracolosa l'avremmo già adottata sarebbe stata pubblicata in tutto il mondo non esiste purtroppo una medicina miracolosa e tutti i giorni tutte queste catene che inondano la rete preferisco avere Netflix in alta dimensione che tutte queste cagate che si mandano in giro sulle medicine miracolose se c'è una medicina miracolosa la sanno i medici e non le chat di questi complottisti di cui continuiamo ad andare a proposito di complottisti straordinaria la storia la prende Riccardo Luna ma è una delle fissazioni sacrosante di Luciano Capone sul foglio beh esiste un consulente del Palazzo Chigi che si chiama Gunther Pauli appena si è preso lo stipendio di Palazzo Chigi un consulente tedesco amico di Grillo toc toc più che strada più che emergency ma quel delinquente di Grillo so tutto io dove è finito l'uomo che ha portato Conte a Palazzo Chigi dove è finito Grillo ma comunque Grillo un'altra dei suoi disastri l'ha fatto con questo Gunther Pauli suo grande amico nuovo consulente economico di Palazzo Chigi che twitta come un pazzo il problema del coronavirus deriva dal 5G vale tutto capito? vale tutto cioè se voi e qualcuno me l'ha scritto anche a me ragazzi se mi scrivete che voi avete da soltanto il lontano sospetto che ci sia il 5G dietro al coronavirus vi prego non seguite la zuppa ve lo chiedo proprio spassionatamente allora non avete capito proprio come la razionalità del nostro ragionamento leggetevi Saviano due pagine oggi ve le leggo stupende sentite come nasce come dovete proprio sentirvelo Saviano perché è da godere nella sua inutilità dalle osservazioni di questi giorni dalle osservazioni di questi giorni ma quali osservazioni? da New York? dalle osservazioni di questi giorni sembra emergere scrive Saviano sembra emergere sembra emergere che le mafie non fossero in possesso di informazioni maggiori rispetto agli altri sul coronavirus ragazzi io vi giuro questo è quello che scrive Saviano dalle osservazioni di questi giorni sembra emergere che le mafie non fossero in possesso di informazioni maggiori rispetto agli altri e fa due pagine per scrivere sta stronzata ma vi rendete conto due pagine e c'è gente lì che sbrodola ma vi rendete conto se mio figlio di otto anni avesse scritto una cosa di questo tipo l'avrei preso gli avrei detto ma cosa scrivi? cosa scrivi? vabbè nel frattempo stupenda di Rampini ve l'ho parlata il pezzo di Travaglio Travaglio oggi ve lo devo segnalare un po' che non ve lo faccio perché Travaglio oggi fa un pezzo credetemi è vero vi giuro un po' come quello di Saviano un pezzo in cui ci spiega perché sono tutti dei cretini quelli che hanno criticato Conte nella comunicazione fatta l'altra sera via Facebook alle 23.30 toc toc Travaglio non ci arriva non ci arriva a capire che è strano che un Presidente del Consiglio comunichi qualcosa che non ha ancora decretato cioè la chiusura dell'Italia o di una parte dell'Italia e lo faccia via Facebook alle 23.30 di sabato sera posto che ancora non c'è il decreto lui non lo capisce e attacca quelli che invece si sono permessi un po' di discuterlo titolo migliore della giornata oggi ovviamente è quello di Sallustri rispetto al decreto di ieri una buffonata perché una cosa di questo tipo vale più per i like di Casalino e Conte che per l'efficacia di un decreto che ancora mezza Italia non ha capito come applicare questo forse sarebbe un po' più interessante l'intervista a Toti fatta da Capezzone ve la risegnalo perché è stupenda e dice chiudere tutto non si può i 25 miliardi che ha messo a disposizione il governo bastano se no per 15 giorni perché abbiamo chiuso praticamente metà dell'Italia quindi grandissima posizione diciamo seria e nel frattempo ti viene di leggere l'intervista che ha fatto Conte alla stampa il giornalista della stampa ci prova pure a fare delle domande ma una di quelle fondamentali che appunto Toti cerca di avere una risposta è ma perché abbiamo chiuso al centro e al sud così come in Lombardia e in Veneto che sono disperate per il coronavirus stiamo adottando scrive Conte le misure ritenute necessarie gli italiani rimangano a casa non ci sono alternative cioè Conte non risponde non risponde mai non dà mai una soluzione non dà mai un punto di vista ce l'hanno detto i tecnici bisogna evitare il contagio tra il nord e il sud grazie tutto tautologico tutto scontato non riesce ad afferrarlo è incredibile sembra un pezzo di Saviano messo in intervista prendi Saviano prendi Conte li metti insieme le intervisti alla stampa e leggi quella roba di oggi che non la capisce manco ma manco Andreotti manco Moro avrebbe risposto così nel frattempo intervista alla Castelli quella che disse a Pado questo lo dice lei cioè la giovane parlamentare che diceva al vecchio professore che tutte le sue teorie erano sbagliate però oggi mi verrebbe dire alla Castelli con tutto il rispetto non ho nei confronti alla Castelli l'atteggiamento che ho nel suo collega Villarosa Villarosa però questo lo dice lei mi verrebbe di dirlo alla Castelli perché cara Castelli questo lo dice lei che i 600 euro sono pronti per le partite IVA e qua siamo al 23 di marzo io voglio chiedere a tutti voi che mi ascoltate c'è qualcuno di voi che ha preso i 600 euro? io voglio chiedere a tutti quanti voi che mi ascoltate c'è qualcuno di voi che ha avuto una dilazione su inutili? io voglio chiedere a tutti voi che mi ascoltate c'è qualcuno di voi che ha avuto un euro di quei 25 miliardi dello Stato? io vorrei a tutti quanti voi che mi ascoltate c'è qualcuno che ha fatto a parte i 4 giorni di rinvio fiscale e ha avuto un beneficio fiscale da questo governo? io vorrei a tutti voi che mi ascoltate c'è qualcuno di voi che è riuscito già ad utilizzare la cassa integrazione? spiegatomelo l'altro giorno mi hanno scritto migliaia di lettere sull'impossibilità di avere dall'Inps il pagamento anticipato di questa cassa integrazione io lo vorrei a tutti quanti voi e vorrei che la Castelli prima di dire a Padua questo lo dice lei pensasse che questo lo diciamo tutti noi italiani cioè non abbiamo ancora capito e ricevuto un euro di questi fantomatici e ridicoli 25 miliardi nel frattempo l'Europa oggi fa l'ecofin litigheranno sugli euro bond ce lo spiega il messaggero ma ce lo attendavamo tutti quanti noi vi do un saluto a tutti quanti voi per questa zuppa come sempre cercherò di farne altre durante la giornata e buona buona quarantena è il caso di dirlo